peggie 18 successiva ok siamo ritornati benvenuti cioè benvenuti in questa cazzo di parte dove angel dovrà trovare un diamante e forzare qui con lui vero? si sono qui sono qui c'è qua anch'io l'ultimo diamante no l'ultimo diamante lo dovevo trovare io non me ne frega niente ma sono tu l'ultimo diamante però tu devi rimanere in caverna si si rimane in caverna come cazzo vuoi però e se li trovo io i diamanti non me ne frega niente andiamo avanti in che se andiamo avanti? a cercare diamanti cioè quanti cazzo li diamanti vuoi trovare una stacca in tira? si una stacca in tira no no tu sei malato tu io ho detto bene tu sei malato perchè io non ne trovo il mio figlio perché mi faccio schifo e faccio eh ah 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 che voglio faccio e cheeeh ok se adesso muori di nuovo io mi teletrasporto di nuovo date perchè ho ritrovato il punto in cui ero prima ehm ti amanti ehm mi fattuti diamanti ehm un po' forse qui voi no l'ultima 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 per ok perchè ti fanno specchi che amante a te fanno schifo se non sei degno di toccare diamanti quei quattro diamanti che trovate erano una feccia della feccia della società ok 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 e se troviamo a te lo regalo no certo devo trovare in stato grezzo ho la febbra è un'accusa fai per prima a spa un'artiglia ok contate le camere spento per la spa un'artiglia quattro pezzi di amante grezzo a posizionale nella caverna la parte di aver ritrovato ritrovato no d'accordo allora aspetteremo a 352 milioni di parti ma che è detto che l'ha un suo voluto diamante devo trovare un diamante per farebordini e quattro odio i medici in cinque numero preferito mio quindi l'amore l'amore è passare molto ok mi sto muto intanto tu stai sclerando libro minecraft non c'è davvero la salvo quindi attento come giocare e comunque notizione dove sentire questa notizia cosa vuoi no niente niente cosa vuoi ho trovato i due diamanti non è vero si è vero non può essere non può essere basta cambiamo posto sono fra tutte coglioni allora facciamo una cosa allora scavo verso su se scavi verso l'alto non troverai mai una mazza perchè siccome in basso ho trovato qualcosa cos'è sto rumore di acqua c'è 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 sono morte ecco tutta correttamente basta c'è 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 ma tu muore ogni moto o c'è ogni minuto c per favore ogni ora. scuola vicino anche se mi chiede manda lo sento no sono sempre il cuore il sito ecco angela che spera davvero molto divertente cosa contro di me cosa contro di me perchè non sei diamante ok ok m diciamo 17 pezzi di carne morta ok il volentiere per se che non mi volete non mi volete non mi non mi non mi volete ok no l'hai trovato il caffè il cibo il mio di mondo perchè quando i miei 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 23 ecco il titolo mi sarebbero stava posto oreggio non ti cazzare ma adesso diciamo la parte no ma se non mi cominciare non abbiamo iniziato a test ma ecco dovrei a che è successo allora angelo vediamo la parte adesso no 3 io voglio un gioco gi ma non ti da andare per niente non ti da andare per niente non è per niente troverai diamante uno stile di interno no no ah fuga fuga no mi sta seguendo mi sta seguendo chi ti sta seguendo chi ti sta seguendo chi ti sta seguendo chi ti sta seguendo un cuore un cuore un cuore un cuore se crepi di nuovo se un nabbo davvero un cuore senti tutti i martiri di dio che prego no 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 queste ultime parti sono state incentrate sulla raccolta di diamanti sullo sclero di angeles e tutte le morti fino ad essere effettuato da lui no 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 non no 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 Grazie per la visione